musica puoi ciao puoi, allora dove siamo? siamo... dove siamo? in Cina, no in Giappone in Giappone, a Tokyo poi a Tokyo eh eh abbiamo finito di mangiare Cina S se no sazzissimo eh Antone saluto Antone ciao e mi sono cambiato e ora sto andando al convento cabaret e finalmente sono arrivato al convento cabaret vediamo le prove dal convento cabaret BANANA è il migliore a difendere europeo essere o non essere chi scappano RAPA 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 CA RAPA RAPA BANANA!!! 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 C'è BANANA!!! DICTIGUE DI QUESTI GORDI BANANA!!! Amore, tagliamo, via! Oh, ma ciò riscusso vuol fare o no? Oh, ciao! Tagliamo i tori! La Coglie! BANANA!!! Raga, raga, basta, che chi lo fai il tenegianino! Dai. Dai! ma anche a banzetta ma anche a banzetta oi fa i buoni gue sono nifo ma anche a bana a bana la gente l'ha finita l'ha finita sei a nica lì sono l'attentante l'ha finita 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 l'ha finita